Salve, oggi vediamo come determinare il numero di ossidazione degli elementi che compongono gli ioni polietomici. Sappiamo che nelle molecole neutre la somma algebrica degli stati di ossidazione deve essere pari a zero. In questo caso invece verranno posti pari alla carica. Prendiamo il primo composto che è l'ione per manganato, rappresenta quindi una carica negativa, chiamando x il valore del manganese, in quanto quello dell'ossigeno sappiamo essere pari a 2, a meno 2, quindi scriveremo x più 4 atomi di ossigeno per meno 2 uguale a meno 1, quindi x meno 8 uguale a meno 1, x uguale a più 7. Quindi in questo caso il manganese avrà stato l'ossidazione massimo, quello massimo più 7. Analizziamo lo ione bicromato. In questo caso, perché abbiamo a che fare con due cromi, indicheremo con l'incognita come 2x, per cui 2x più 7 atomi di ossigeno per meno 2 uguale a meno 2, quindi 2x meno 14 è uguale a meno 2, 2x uguale a 12, x uguale a più 6. Questo più 6 riguarda un solo atomo di cromo. Esaminiamo adesso lo ione tetracoloruro di palladio. Il palladio assume sempre valori positivi, per cui l'unico valore del cloro che è possibile prendere in considerazione è il meno 1, carica negativa. Quindi indicando con x il numero di ossigenazione del palladio più 4 atomi di cloro per meno 1 uguale a meno 2. Quindi x meno 4 è uguale a meno 2, x uguale a più 2. Quindi il palladio in questo caso avrà stato l'ossidazione più 2 e cloro meno 1. Analizziamo adesso lo ione solfo cianuro. Lo ione solfo cianuro, quindi SCN. Bene, qui il discorso si fa in teoria un po' più complicato, però sappiamo, in ogni caso, dovremo sapere che lo ione cianuro presenta questa struttura. Pertanto, in questo caso, l'azoto avrà stato l'ossidazione meno 3. E il carbonio, quindi, poiché è più elettronegativo dell'ozolfo, avrà stato l'ossidazione più 4. Ora, è determinato, diciamo, gli stati ossidativi del carbonio e dell'azoto, quindi indicando con x il valore dell'azoto, dell'ozolfo, x più un atomo di carbonio per più 4 più un atomo di azoto per meno 3 è uguale a meno 1. Quindi, avremo che x più 4 meno 3 è uguale a meno 1, x avrà valore meno 2. Quindi, in questo caso, l'ozolfo sarà meno 2 carbonio più 4, l'azoto meno 3. Ora, consideriamo l'ultimo composto che è l'ione di tionato. L'ione di tionato è formato da due atomi di zolfo e 6 di ossigeno con due cariche negative. In questo caso, come determiniamo? Quindi, conoscendo, quindi, l'ossigeno, qui, in questo caso, è meno 2, quindi 2x incognita, quindi 2x più 6 atomi di ossigeno per meno 2 uguale a meno 2, quindi 2x meno 12 uguale a meno 2, x è uguale a più 5. In questo caso, l'ozolfo ha un numero di ossidazione atipico rispetto a quelli che noi conosciamo, cioè più 6, più 4, più 2, prova perché esiste un doppio legame tra i due zolfi e l'ossigeno avrà stato l'ossidazione pari a meno 2. Spero che questa lezione vi sia piaciuta. Se volete, iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like.